Come ogni anno si terrà ad Agropoli Luminario di Sant'Antonio e siamo in compagnia del parroco della Chiesa Madre dei Santissimi Pietro e Paolo, Don Carlo Pisani, che ci illustrerà il programma di questo evento. Sì, questa è un'antica tradizione che accomuna diversi paesi del Cilento, quella di accendere dei fuochi in onore di Sant'Antonio Abbate, fondatore del monachesimo, ma il cui culto è soprattutto legato alla civiltà contadina. E anche qui, nella Chiesa Madre di Agropoli, vi era un altare dedicato al santo con una tavola dipinta del XVI-XVII secolo, la cui adesso riproduzione è qui collocata dietro le mie spalle, l'originale invece conservato nel Museo di Cesano di Vallo della Lucania. E quindi come ogni anno, da centinaia di anni, come comunità del Centro Storico, come comunità della Chiesa Madre, riproporremo alle ore 17 l'accensione del falò, dell'illuminare in onore del Santo. Poi ci sarà la celebrazione eucaristica in memoria di Sant'Antonio Abbate e alla fine si concluderà con un momento di convivialità. Attorno al fuoco ci ritroveremo insieme per un momento così di condivisione, di allegria, anche per rifocillarci e riscaldarci al fuoco in onore di Sant'Antonio. Quindi invito non solo chi è membro già di questa comunità, ma tutti gli amici che vorranno partecipare ad essere presenti a questo ulteriore momento che ci fa riscoprire le nostre radici e le nostre tradizioni.